Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha dichiarato inammissibili e ha respinto i ricorsi presentati da Girgenti Acque contro l'interdittiva antimafia e il commissariamento della società con contestuale richiesta di risarcimento danni per oltre 10 milioni di euro. L'interdittiva era stata emessa dalla Prefettura nel 2018 perché fu ritenuto che su Girgenti Acque sussistessero tentativi di infiltrazione mafiosa. Subito dopo la società venne commissariata per garantire l'importante servizio idrico in provincia di Agrigento, gestione commissariale che cessò nel luglio del 2021 con la successiva gestione passata dal 1 agosto all'azienda idrica Comuni Agrigentini. Girgenti Acque ha proceduto contro la Prefettura di Agrigento, l'autorità nazionale anticorruzione, il Comune di Agrigento, l'ex commissario Gervasio Venuti e l'Assemblea territoriale idrica per l'annullamento dell'interdittiva antimafia della Prefettura di Agrigento e contro il conseguente commissariamento. Secondo i giudici del TAR, il provvedimento interdittivo è sostenuto da una serie di approfonditi e circostanziati elementi istruttori e investigativi rivelatori del pericolo che possa verificarsi il tentativo da parte della criminalità organizzata di ingerirsi nell'attività imprenditoriale della società ricorrente. Queste le motivazioni per le quali è stato rispinto il ricorso portante e anche quelli sul commissariamento e sulla richiesta di risarcimento danni. Negli ultimi giorni sono stati rubati i cavi elettrici che collegavano 20 lampioni della pubblica illuminazione lungo la strada statale 386 in Contrada Torre che porta all'ingresso di Ribera e quanto emerso da un sopralluogo effettuato questa mattina dei tecnici comunali che erano intervenuti a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini. Il furto oltre a causare il blackout lungo la strada ha anche determinato un danno economico per il comune di Ribera stimato in circa 15.000 euro. Si tratta di un atto gravissimo che danneggia il patrimonio pubblico e la sicurezza dei cittadini ha dichiarato il sindaco Matteo Ruvolo. Questa mattina il comune di Ribera ha presentato una denuncia contro i gnoti. Il governatore Renato Schifani, presidente del Consiglio Nazionale di Forza Italia, un incarico voluto dal segretario Antonio Tajani che il partito ritiene fondamentale nel processo di rafforzamento e radicamento di Forza Italia in tutto il territorio nazionale. Per il coordinatore regionale Marcello Caruso la presenza di Schifani alla guida del Partito Nazionale sarà inoltre garanzia per le istanze della Sicilia e del Mezzogiorno. Si è tenuta presso il comune di Sciacca l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del Carnevale 2024. Il primo premio, uno scooter Symphony, è andato al biglietto numero 03077. Il secondo premio, un iPhone 14 Apple, al biglietto 01614. Il terzo premio, della lotteria del Carnevale di Sciacca, un monopattino elettrico, è stato assegnato al biglietto numero 02982. Il primo premio, uno scooter, è stato assegnato al biglietto numero 03077.